E allora chi sono queste rame di Aristofane? Coax, 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 coax. E noi invece leveremo il nostro canto ancora, ancora più forte. Come quando tra il giunco e il cipero zompettavamo al sole felici di cantare tra un tuffo e l'altro ciuff, e ciuff, e ciuff, e ciuff. O quando sott'acqua sul fondo, sfuggendo dalla pioggia mandata da Zeus, Intonavamo Una acquatica Aria di danza Scherziata dal gorgoglio delle bolle Che scoppia e tanti fanno Ficarre e pigone yes Ma sono loro i protagonisti Complimenti ragazzi Sono i sei ottavi Un incontro meraviglioso Anche se vogliamo dire Tra Siracusa e Palermo Ernesto Marciante Che tiene la bandiera siracusana E poi tutti i nostri amici palermitani De sei ottavi Questo incontro con il regista Barbario Corsetti Come avviene? Avviene attraverso un lavoro Che abbiamo fatto l'anno scorso Al Teatro Massimo di Palermo Per le streghe di Venezia Di Philippe Glass Ci siamo conosciuti in quell'occasione Noi siamo stati trasformati In dei becchini Era un'opera un po' surreale In cui noi appunto facevamo questi Eravamo tutti truccati con questi cappelli Un po' impalandranati E facevamo appunto i becchini Che apparivano E dovevano fare quelli Che spaventavano il bambino Attraverso questo lavoro Giorgio ci ha conosciuti E ha visto una potenzialità Evidentemente che poteva essere Utilizzata per le rane E da qui la richiesta Di partecipare come coro cantante E in questo caso anche come compositori Perché abbiamo scritto Tutte le musiche di scena Queste sono nostre Quindi per noi un doppio onore Il fatto di essere scelti E il fatto di essere gli autori delle musiche Che insomma è una cosa per noi molto molto importante Quindi compositori, musicisti Anche cantanti Ma anche attori Perché parlate Le rane parlano Gracitano Parliamo in musica Quindi sì di fatto Poi tra l'altro come diceva Poc'anzi il Giorgio Il coro è una presenza costante Che commenta E quindi è una presenza parlante Con parole anche di un certo peso Poi avere il compito di renderli in musica È stata una bella sfida E ci siamo divertiti Ci divertiamo E è un continuo aggiungere prova dopo prova Quindi parliamo tanto Ma cosa vuol dire Croak Croak Trekt Brekekekeks E diciamo sì Simuliamo un po' il gracidere delle rane Anche se comunque la batra comiomachia Ci sono riuscite È comunque legato alle rane Cioè una parola Sì assolutamente Sono parole di Aristofane È comunque diciamo anche una sfida importante Riuscire a portare il testo di Aristofane in musica Quindi le metriche diciamo non facilissime Siamo riusciti in qualche modo Speriamo ad adattarle alla musica Ernesto Marciante Siracusa Che ci fa in mezzo ai palermitani? Noi ci siamo conosciuti a Palermo Diciamo che la formazione dei 6 ottavi è di lunga data Io insieme a Germania siamo i novellini Ormai in realtà da tre anni a questa parte Diciamo sempre così Però personalmente Insomma essere a casa Per questa occasione Per un evento così importante È una gioia infinita Appena l'ho saputo ho cominciato a ballare A saltare Insomma non mi contenevo più Insomma Essere a casa è veramente un surplus A queste emozioni che stiamo raccogliendo Esattamente sì 6 ottavi Quindi voi prediligete questa metrica Questa ritmica Sì Diciamo che si è il tempo Di una ballata Della tipica ballata Però diciamo che Inizialmente il gruppo aveva sette componenti Quindi non è strettamente legato Al nome del gruppo Adesso oggi siamo 6 Ma nel corso degli anni La formazione ha avuto Diversi membri Che dirti È emozionante È stato emozionante per noi anche incontrare L'energia di questi ragazzi Del coro Inda Con cui abbiamo collaborato Anche con Giorgio Insomma c'è stata questa Grande collaborazione Di idee Per cui ogni giorno È un continuo costruire In scena Insieme Ed è molto bello questo Rane protagonisti Sarete sempre in scena? Sin dal primo istante O quasi O quasi Incontriamo Dioniso O Dioniso C'è questa diatriba dialettica E fin dal Dal primissimo Dal primissimo Atto Insomma La prima scena Cominciamo subito E effettivamente per noi è stato Un invito Insomma Anche emozionante Perché Già da un po' E si è stata lanciata Questa prospettiva Di Non solo essere gli autori Delle musiche e quant'altro Ma di essere in scena A contatto con degli artisti Eccezionali E poi Se posso aggiungere Anche Cosa di cui abbiamo parlato Fino in tutti questi giorni Di un'umiltà straordinaria Da cui sicuramente Ognuno di noi Può apprendere I ragazzi del coro Veramente siamo a contatto Con una realtà Oltre che bella Davvero di altissimo Di altissimo Prestigio Quindi ci onora Assolutamente Sicilia in primo piano Anche con Figaro e Pigone Sono vostri concittadini Quindi Bene ragazzi Allora tanti Croac Croac Vi aspettiamo al Teatro Greco Grazie Ciao Grazie 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 a tutti